Allora, Castilla del Macu, che effetto fa a essere qua in Poi? Sicuramente sarà molto emozionante, adesso abbiamo iniziato da un paio di giorni, per me è una grande opportunità, per me ti mostra anche in un ambiente diverso, io vengo dalla Lega Pro e sono qua per migliorare e per imparare tanto dai compagni e dal mister. Che tipo di giocatore sei? Sono un difensore centrale abbastanza forte fisicamente, credo anche abbastanza bravo tecnicamente, però chiaramente devo migliorare ancora tanto perché è una categoria molto difficile. Senti, il salto è stato importante, immaginiamo che il tuo obiettivo sia quello di rimanere la rosa, non so se hai già parlato con i dirigenti di questo. Sì, il mio obiettivo è quello anche perché come hai detto tu, il salto è di andare alla Lega Pro in Serie A, comunque c'è tanta differenza, io cerco di migliorare e se riesco a essere confermato per questa stagione sarebbe già un ottimo passo. Senti, era il Melfi con Salvatore Caturano, non so se ti ha detto qualcosa di Empoli, dell'Empoli, dell'Ambiente. Sì, sì, mi ha parlato sempre molto bene, Salvatore Caturano ha fatto una grande stagione quest'anno e ha anche firmato a Bari, adesso molto contento per lui e mi aveva già anticipato molte cose. Quali sono state le prime cose che ti ha detto Mr. Gianpaolo? Le prime cose adesso stiamo lavorando tanto, quindi personalmente non abbiamo ancora parlato, stiamo ancora in fase di carico di lavoro, quindi ci sono da animare tanti aspetti tattici. Sogni di esordire nella massima serie italiana? Chiaramente quello è il sogno di ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio, di ogni bambino, quindi speriamo, speriamo. Che ambiente hai trovato qua a Empoli? Ho trovato uno spogliatoio bellissimo, veramente ragazzi umidi, con tanta voglia di lavorare, anche dai più vecchi Maccarone o lo stesso Tavano che è andato via, comunque ho trovato uno spogliatoio molto molto unito, che sicuramente aiuta anche in campo, poi gli risultati si sono visti. Poi i più vecchi ti hanno già dato qualche consiglia? Ma i più vecchi sono magari Tavano Maccarone, erano loro, sono da attaccanti, quindi consigli di reparto non mi possono dare, magari per ambientarmi un po' su come comportarmi, sì, sono stati molto bravi. E l'ultimo per me, un po' d'emozione c'è per questa prima stagione serie A? Sì, 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 sicuramente bisogna anche gestirla, perché è vero, è da per primo anno, quindi non mi aspetto niente di speciale, gli ho detto, spero solo di essere confermato e poi le cose vengono da sé. Perfetto. Senti, una curiosità, l'albanese di Scandiano, cioè non è nato di tribolore, proprio? Io sono nato a Scandiano da genitori kosovari, quindi sì, origini kosovari, però sì, c'è l'etnia in quella albanese, quindi no, mi sento, mi sento, sì, è italiano, è albanese, è una bella sensazione, non la possono provare tutti. Sì, sono andato in camera con lui, in ritiro, un bravissimo ragazzo, sì, sì, è uno che mi sta dando tanti consigli, un ottimo giocatore tra l'altro. Tu hai già detto una vera ragazza? Ho fatto sì, ho fatto una partita tre anni fa, poi basta. Ma chi hai alzato a scuolo? Non capito, non ho detto, ha fatto le giovanili a scuola? E poi allievi nazionali e primavera a Sassuolo, poi sono passato a me e ho fatto quattro anni là.